Questa mattina la campanella ha suonato per il nuovo anno scolastico in Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta. Ma non sono i primi studenti a tornare in classe. Quelli di Bolzano sono già sui banchi da martedì scorso 5 settembre. Entro il 15 cominceranno le lezioni per 7 milioni di ragazzi italiani, secondo il calendario prefissato per le diverse regioni. In piena autonomia i singoli istituti possono decidere di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, su proposta del collegio dei docenti. Per assicurare la validità dell'anno scolastico resta obbligatorio il limite di 200 giorni di lezioni. Per partire con il piede giusto i pediatri dell'ospedale Bambino Gesù si sono rivolti ai genitori per aiutarli ad affrontare in serenità il ritorno a scuola con i loro figli. Hanno stilato un decalogo su postura, zaini, alimentazione, gestione del tempo e dello stress. È importante mostrare interesse per la giornata scolastica dei ragazzi, notare eventuali difficoltà senza allarmarci, offrire supporto e dialogo senza invadere la privacy, promuovendo anche una sana attività fisica. Per sentire il suono dell'ultima campanella nella maggior parte delle regioni bisognerà attendere l'8 giugno.